Undicesima settimana della diciottesima edizione della Prova del Cuoco. Nuova puntata, quest'oggi, alle 1150 su Rai 1, nuovo, invitantemenu su ricetteinf.com. Tra una battuta ed un saggio consiglio culinario, ovviamente, gli chef dell'amato cooking show condotto da Antonella Clerici hanno proposto invitanti ricette e quindi, deliziose pietanze, che abbiamo puntualmente annotato sulle nostre pagine, quali golosi mani caretti avrà assaggiato Antonellina? Scopritelo con noi. . L'apostrofo edizioni 2017-2018 Il cast dei Cuochi sarà composto quest'anno da Renato Salvatori, Mauro Improta, Marco Bottega, Francesca Marsetti, Cesare Marretti, Natale Giunta, Roberto Valbuzzi, Ivano Ricchevono, Cristian Berto, Riccardo Facchini, Gian Piero Fava, Diego Bongiovanni, Ambra Romani, Katia Maccari, Valerio Braschi. Ad affiancare Antonella Clerici, inoltre, un gruppo vincente di maestri, chef, esperti e gourmi Alessandra Spisni, Natalia Cattelani, Sergio Barzetti, Gabriele Bonci, Guido Castagna, Sal De Riso, Evelina Flachi, Andrea Mainardi, Luis Anna Messeri, Anna Moroni, Gianfranco Pascucci, Daniele Persegani, Davide Povedilla, Daniele Reponi, Gino Sorbillo. . Le ricette di oggi alla prova del cuoco. Le ricette delle scorse puntate per le altre ricette delle precedenti settimane e delle passate edizioni. Clicca qui.